Musica Dal 1994 in avanti Inter Mizzò Cavalli ha portato in Italia per farne degli stalloni, alcuni soggetti che, tra le mancabili ed inevitabili critiche, hanno prodotto numerosi cavalli negli anni messi sin luce nello sport. Se tra i figli di Landaris, importato nel 1994, vogliamo ricordare in particolare Snowyland, grande vincitrice con Virginia Argenton, più complesso ricordare i troppo numerosi figli di campione che settimanalmente calcano con successo i campi di gara. Molti brillanti risultati sono arrivati anche dai figli di Atrick, di Campbell, che è ad esempio il padre di Kaomi ed Heidi di Bosco Chiaro, ed ora anche da Quistello, padre di alcuni eccellenti cinque anni, tra cui spiccano Renetta Mia, Iron Shore, Qualità dei Castellani e Quiz Day, il soggetto che vi presentiamo oggi. Siamo certi che tante soddisfazioni le potremo condividere con i nostri allevatori in futuro, anche per i figli di Cristo, di Longin di Villa Emilia, che tante fattrici stanno coprendo in questi ultimi anni. Quiz Day, il soggetto qui presentato, di proprietà dell'allevatore veneto Elvise Marzari, ha fatto il suo esordio in campo di gara proprio lo scorso fine settimana, a San Giovanni Marignano, prendendo parte alle categorie dei cinque anni che, montato da Andrea Concari, ha portato serenamente a termine senza mai toccare barriere, mettendo in luce caratteristiche di forza, tecnica, buona cavalcabilità ed un eccellente equilibrio mentale. Grazie a tutti!